Continuo a comprare bitcoin oppure mi fermo? È il momento di iniziare il pack oppure è troppo tardi? Oggi risponderemo a tutte queste domande nel video che seguirà dopo che io vi ho finito questa introduzione. Giusto due parole prima di guardare il video, visto che è un po' lunghettino. Prima ci guardiamo un'analisi tecnica. Secondo vi mostro la stagionalità e delle informazioni che non vedrete forse da nessun'altra parte, non lo so, comunque delle informazioni veramente rare riguardo a bitcoin e al suo modo di comportarsi. Quindi cerchiamo di capire come si è comportato in passato, che probabilità ci sono, che continui a salire. Faremo anche un po' di analisi macroeconomica e per finire vi do anche un piccolo consiglietto su come fare delle prese di profitto parziali che in questi momenti, per chi sta investendo nel mercato spot, potrebbe essere molto interessante fare. Comunque, qua sotto ci sono i capitoli con la barra selezionate quello che più vi interessa oppure magari guardatevelo tutto e perché no lasciate anche un like così, che male non fa. E iscrivetevi che questo canale è nuovo, servono iscritti. Vi lascio al video, questo è giusto un riassunto per dire guardalo perché è interessante, adesso vi lascio al video. Buongiorno dottori e dottoresse, benvenuti sul canale destinato al trading e agli investimenti, finalmente. Sapete che io parlo sempre poco di prezzo, ma ora che abbiamo un canale dedicato sono libero di esprimermi. E quale momento migliore se non quando il nostro amico bitcoin ci combina questa cosa qua. Ma dove stiamo andando? Dove stiamo andando veramente to the moon? Visto che ho ricevuto un'interessantissima domanda su Instagram, questa qua che non funziona mai sto dito quando deve funzionare, questa domanda qua comunque, io sono sicuro che tantissime altre persone sono nella stessa identica situazione. Quindi oggi andiamo a rispondere a questo ragazzo cercando di capire se ha senso vendere, ha senso continuare a comprare, ha senso non fare niente. Cosa è meglio fare, e metto le virgolette e adesso capirete il perché, in questo tipo di situazione faremo anche una veloce analisi tecnica, fondamentale, macroeconomica, vedremo un po' alcuni dati per cercare di capire qual è la cosa migliore da fare in questo momento secondo dei dati oggettivi. Non secondo, e non funziona mai, il nostro parere. Tuffiamoci all'interno e andiamo a capire. Il primissimo ragionamento che dobbiamo fare però non è di carattere tecnico, è di carattere psicologico. Non ci dobbiamo far prendere dalla FOMO. Ora io voglio rispondere nel particolare a questa domanda, quindi se io già sto comprando Bitcoin, cosa faccio? Continuo oppure no? Perché vedete, non è molto diverso da dire non ho mai comprato Bitcoin, cosa faccio? Inizio adesso? È troppo tardi? Oppure il momento giusto? Ogni volta che noi rientriamo al mercato è come se noi prendessimo una nuova decisione. Perché dico che non bisogna farsi prendere dalla FOMO, anche se già state investendo in Bitcoin e quindi dite, no ma non è FOMO la mia, la mia è semplicemente una strategia. Ed è giustissimo, può essere così nel caso in cui voi avete un pack, quindi un piano di accumulo che tenete nel tempo ogni settimana, ogni mese, comparte la stessa cifra ed è la strategia che io solitamente preferisco, perché è la più facile, è quella che ha meno complicazioni e di solito nel lungo periodo overperforma tutte le altre strategie. Ma il punto qual è? Ogni volta che voi fate un'entrata in un pack è come se voi stesse decidendo per l'ennesima volta di entrare a mercato. La domanda che dovete farvi quando vi chiedete ma continuo il pack oppure lo fermo? Esattamente la stessa che vi fate se voi dovete iniziare un investimento per la prima volta. Dovete dire ma adesso entrerei a mercato oppure no? Il problema qui è quello che non esiste una risposta univoca, cioè no, adesso non puoi entrare perché il prezzo è già salito troppo oppure si entra perché tanto salirà ancora tantissimo. Quello che dovete prima di tutto definire è il vostro obiettivo. Sembra il solito discorso da eh ma è una mezza risposta ma io voglio sapere se devo comprare oppure no. Purtroppo negli investimenti non c'è sì o no, giusto o sbagliato. Tutto è relativo. In questo caso qual è il vostro orizzonte temporale? Dovete chiedervi se io voglio comprare bitcoin da qua a 10 anni farà qualche differenza comprarlo a 42, a 45, a 36? Probabilmente no. Da qua a 10 anni cambierà molto poco sul prezzo che voi avete al prezzo al quale voi avete acquistato bitcoin. Ma se la vostra investita, se il vostro obiettivo è cavolo io entro fine anno ho bisogno di questi soldi adesso li vorrei investire per non perdermi il treno però io poi questi soldi ne ho bisogno e quindi a fine anno so già che mi servono indietro. A quel punto il ragionamento è totalmente diverso perché lì sì che cambia se avete adesso a fine anno vabbè siamo al 5 dicembre quindi manca un mese si può dire che è veramente breve periodo ma anche se fosse questione di sei mesi dovete fare attenzione perché lì sì che il mercato in sei mesi può far di tutto quindi quello che prima di tutto dovete definire quando volete rispondere ad una domanda così è qual è il mio orizzonte temporale? Qual è il mio obiettivo? Ho intenzione se il prezzo crolla e mi raccomando c'era questa frase che io solevo dire quando insegnavo trading e adesso che sto rientrando nel giro la ridirò più e più volte il trading non è prevedere cosa faranno i mercati ma è prevedere cosa faremo noi nei confronti di ogni possibile movimento di mercato quindi chiedetevi già se io entrassi adesso se il prezzo arriva a 50, 60, 70, 100.000 cosa farò? e ve lo scrivete su un pezzo di carta e dite io farò quello punto e basta stessa cosa quando il prezzo crolla se dovesse crollare cosa faccio se io adesso entro e il prezzo continua a crollare? continuo il pack oppure mi fermo? mi raccomando rispondete a questa domanda in maniera sincera e trasparente con voi stessi cosicché la risposta vi arriverà in modo automatico devo entrare o non devo entrare? semplice rifletti su quello che stai per fare su quello che vuoi fare nel futuro e in base al tuo obiettivo sai per già se ha senso comprare oppure no comunque andiamo a dare una risposta anche un pelo più oggettiva secondo quello che ci dicono i dati cioè a livello personale prima deve avere la mia preferenza se voglio comprare oppure no io vi dico già che se sto entrando per il breve periodo potrebbe non essere un buon momento questo perché il prezzo è salito parecchio e si compra sempre sulla debolezza e si vende sulla forza cioè si compra quando il prezzo sta scendendo in un trend positivo e si vende quando il prezzo sta risalendo in un trend negativo andiamo però a vedere qualche dato oggettivo quindi io sono qui non so totalmente cosa fare e voglio capire le probabilità le possibilità da che punto sono andiamo a fare un po' di analisi e vediamo cosa ci dicono i grafici e le news allora ecco qua il nostro grafico di bitcoin in questo momento io ho l'indicatore Ichimoku sto utilizzando questo indicatore vabbè in realtà lo utilizzo da una vita ci ho anche scritto un libro che trovate su Amazon il libro è praticamente gratis almeno io non ci guadagno niente quelli sono solo i costi di stampa e spedizione e li spiego questo indicatore e la mia strategia ma per fare un sunto questo è un indicatore che indica i trend quindi un trend follower come indicatore ci indica che c'è una forza veramente forte in questo rialzo quindi al momento non avrebbe alcun senso sicuramente andare short ora entrare ripeto il prezzo potrebbe essere un po' tirato per dire cavolo entro perché le probabilità si parla sempre di probabilità che il prezzo da qua continui a fare un'impennata così fino ai 50.000 non sono altissime potrebbe farlo ma non sono così alte le probabilità e quindi insomma aspettiamo di capire cosa sta facendo il prezzo prima di prendere decisioni affrettate per quello che riguarda poi una classica price action quindi andare a capire dove il prezzo si potrebbe muovere beh qua veramente molto semplice vediamo questo livello qua di resistenza poi vabbè c'è l'ultimo livello i vecchi massimi non dai mic ma pazienza e quindi al momento mi sento di dire che i livelli interessanti sono questi due ovvero qua a 47.000 una prima resistenza mentre nel caso di un ritracciamento e qua sì che sarebbe veramente interessante andare a comprare questo sarebbe un punto veramente ottimo ciò dice così il supporto in maniera molto molto facile allora a quel punto se tornasse qua bellissimo cioè sarei proprio tranquillissimo e qui comprare sarebbe una scelta almeno dal punto di vista tecnico molto molto intelligente per ora io sinceramente anche se c'è una resistenza qua in alto ripeto per me non è un buon momento per iniziare adesso anche se io personalmente ripeto se investissi nel lungo periodo non avrebbe senso aspettare nel lungo periodo va benissimo sto parlando di breve periodo adesso che stiamo guardando il grafico quindi per quello che riguarda la parte tecnica in realtà non c'è non c'è molto da dire si potrebbero mettere i volumi si potrebbero mettere altri indicatori insomma la price action parla abbastanza chiara adesso siamo in un trend positivo stiamo salendo la prossima resistenza è là in alto e quindi insomma questo ci dice siamo proprio nella metà di un movimento non c'è molto da aggiungere poi si potrebbe iniziare a guardare Open Interest addirittura anche tutta l'analisi onchain io sono sincero non l'ho quasi mai fatta l'analisi onchain prima di tutto perché i dati sono un po' interpretabili quindi non c'è un dato che ti dice ah questa cosa è positiva questa cosa è negativa va sempre un po' interpretato in base alla situazione e poi sono sincero mi guardo i riassunti dei report sugli altri canali di youtube e vi posso dire che a livello onchain comunque adesso siamo ben messi se guardate anche le fees su bitcoin si sono alzate tantissimo certo maggiormente per colpa degli ordinal se non proprio per il numero di transazioni ma va bene lo stesso significa che comunque la rete utilizzata c'è comunque un interesse dietro l'utilizzo di bitcoin e quindi per quello che riguarda secondo me onchain ci sono tutte le prerogative per vedere un rialzo ancora in futuro per quello che riguarda anche la parte appunto grafica sì secondo me ce lo vedo bene arrivare fino ai 47.000 48.000 dollari ma queste sono le cose un po' più facili un po' più così alla portata di tutti andiamo a vedere qualche altra cosa qualche altra informazione un po' più interessante dal punto di vista un po' macro news allora quando mi dicevo non fatevi prendere dalla FOMO è perché se noi andiamo a guardare l'indice fear and greed index quindi l'indice che ci dice quanto sul mercato c'è euforia o c'è paura vediamo che siamo in un punteggio di 74 che inizia ad essere un po' non tanto ma quasi diciamo dagli 80 punti in poi è meglio stare molto attenti perché il mercato in questo momento è molto ottimista è tutto contento tutto sale tutti comprano ah che bello mi ci tuffo anch'io e via portiamo in alto questo grafico per carità è una bella notizia quindi finché c'è euforia sul mercato significa che il prezzo probabilmente continuerà a crescere però facciamo molta attenzione perché sappiamo benissimo che il mercato si muove sempre a cicli dopo l'euforia ci sarà sempre un momento di panico quando c'è un momento di panico ci sarà sempre un momento di euforia di nuovo so che sarò pesante e petulante con questa cosa ma si deve comprare quando c'è paura quando ci sono dei ribassi non quando ci sono dei rialzi poi e di nuovo mi ripeto se investiamo nel lungo periodo chi se ne frega se investiamo nel breve facciamoci attenzione ci sono però degli altri indicatori che vi voglio mostrare che sono molto interessanti infatti da poco tempo il buon Luca Di Scacciati che tra l'altro saluto mi ha dato l'accesso al forecaster che è uno strumento molto interessante perché vi dà delle informazioni che sono comunque pubbliche le potete trovare ovunque voi le vogliate ma in questo caso le vediamo in maniera grafica già diciamo così già come se fosse un report in maniera già molto più immediata molto più semplice e c'erano diverse cose che ci potevano far intuire che effettivamente su Bitcoin questo rialzo stava per partire o il meglio adesso anche questo rialzo potrà perdurare un pochino allora andiamo a vedere prima di tutto il CotReport se non sapete cos'è il CotReport ne ho parlato molto bene nel podcast Aloha Finance vi vado a recuperare la puntata e ve la metto qua sotto in descrizione comunque poi magari ci faccio anche un video di approfondimento su cos'è bene il CotReport anche se ormai insomma dovreste saperlo esiste da secoli e secoli ne avranno parlato tutti i canali YouTube ma ve lo faccio anch'io il video di Marco Costanza che spiega le cose in modo semplice ci vuole sta di fatto che qui nel CotReport guardate cos'era successo negli ultimi mesi qua siamo a giugno e vedete ah no scusate miau qua siamo a dicembre e vedete che a dicembre era iniziato il prezzo a fare un po' questo movimento di salita no? durante il 2023 ma cosa era successo mentre il prezzo stava salendo guardate qua le barre arancioni che sono i diciamo i fondi di investimento le posizioni nette dei fondi di investimento cosa significa posizioni nette? sapete che c'è un futures di bitcoin quotato al CME ebbene siccome i grandi fondi e tutti quegli diciamo le istituzioni chi comunque ha la grana vera deve dire cosa sta facendo a mercato ebbene guardate qua loro stavano vendendo bitcoin di brutto cioè le loro posizioni erano più quelle short rispetto a quelle long se guardate in passato ci sono stati anche dei momenti in cui erano più le posizioni long rispetto a quelle short ma non perché così tanto tempo quindi c'era una divergenza molto forte che faceva capire un grande accumulo soprattutto sul lato on chain visto che qua sul lato dei futures vedete che loro continuavano a vendere pesantemente ma guardate cosa si era sviluppato nell'ultimo periodo qua siamo praticamente a settembre il mercato ha iniziato ad andare in territorio positivo cioè si sta spostando verso il territorio positivo stanno riducendo le posizioni short non vuol dire che adesso sono tutti long a livello a livello di fondi ma stanno riducendo le posizioni short questo è un ottimo 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 segnale che già a settembre ci poteva dire guardate qui c'era una divergenza perché il prezzo saliva e gli short aumentavano questa divergenza è stata risolta e adesso stanno tutti spingendo nella stessa direzione ecco che questa cosa qua è molto positiva per il prezzo ma abbiamo anche un altro dato interessante che c'è del forecaster che a me piace guardare questo forse è il dato più importante che a me interessa che è la stagionalità praticamente cosa si fa qua si fa una media del prezzo di come si è comportato negli ultimi x anni e si cerca di guardare il grafico se stagionalmente se solitamente in media il prezzo saliva o scendeva vediamo che siamo vicini in una media di 5 anni molto molto vicini al minimo e ad un periodo che andrà da metà dicembre fino praticamente a qua marzo anzi aprile in cui solitamente bitcoin cresce questa cosa qui è vera sia in una media di 5 anni è vera in una media di 7 anni è vera in una media di 10 anni vediamo anche nei 3 anni se è stato così sì ed è anche un anno vedete che il prezzo è rimasto abbastanza piatto ma comunque tendente alla crescita e in 3 anni il prezzo di nuovo tende a salire se noi guardiamo il grafico di adesso vediamo che ci stiamo un po' scostando da questa stagionalità perché non siamo effettivamente scesi così come ci si aspettava ma se tanto mi da tanto e la stagionalità continuerà a mantenere la sua efficacia aperte e chiuso parentesi non è una previsione di cosa farà sicuramente il prezzo è una media cosa ha fatto in media quindi cosa possiamo più o meno aspettarci sa di fatto che se adesso andiamo incontro ad un periodo solitamente rialzista possiamo aspettarci che il prezzo insomma continui a crescere ma adesso è il momento di vedere quali sono le cause macro dietro a questo rialzo e se effettivamente potranno perdurare quindi continuare a spingere il prezzo e poi insomma vi dirò anche il mio verdetto finale alla fine della fiera quindi che devo fare andiamo a vedere ci spostiamo infatti sul nostro bel sito cmf ed watch tool praticamente qua ci dà una previsione di quello che secondo gli analisti secondo un po' i sentiment che c'è sul mercato i tassi di interesse andranno a modificarsi appunto o a rimanere stabili in questo caso vediamo che le prospettive sono veramente alte di un mantenimento dei tassi di interesse fermi cioè non si parla di un aumento non si parla nemmeno di un taglio al momento ma uditi udite le prospettive sui tagli dei tassi di interesse sono migliorate o quantomeno sono anticipate rispetto a quello che ci si aspettava in passato infatti se noi guardiamo cosa prevede il mercato per il 20 marzo 2024 quindi la seconda riunione del 2024 ci si aspetta già un primo taglio dei tassi di interesse le probabilità al momento vanno per la maggiore per un taglio già a marzo questa cosa sta mettendo euforia ai mercati infatti noi siamo tutti contenti che bitcoin sta pompando come non so cosa ma ricordiamoci che non è bitcoin adesso ad essere il più bello e il più bravo nonostante io sia il massimalista più massimalista di sempre e di tutti ma forse di tutti no forse c'è gente più massimalista di me comunque nonostante sia abbastanza massimalista bisogna anche guardare la realtà dei fatti se noi andiamo a guardare la realtà dei fatti e apriamo gli indici vediamo che ad esempio il nasdaq guardate qua che movimento al rialzo che si è sparato negli ultimi giorni andiamo a guardare il russell 2000 ha fatto un movimento allucinante negli ultimi giorni guardiamo l'S&P 500 ha fatto un movimento al rialzo allucinante negli ultimi giorni ma anche il DAX cioè l'indice tedesco il mondo sta iniziando a capire che forse siamo arrivati al picco molto probabilmente dei tassi di interesse così elevati soprattutto dopo gli ultimi dati previsionali che sono usciti per quanto riguarda l'inflazione in Europa e quindi già si sta annusando un non so che di taglio di tassi di interesse il taglio di tassi di interesse è qualcosa che stimola l'economia e quindi si torna ad investire sugli asset di rischio però 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 lasciatemi dire che anche una piccola percentuale di ah che bello bitcoin salverà il mondo c'è ma è derivante più che altro dal fatto degli ETF siamo agli sgoccioli manca pochissimo per gli ETF spot io tra l'altro in tempi non sospetti fatemi vedere se ho ancora il video qua ma sicuramente il video qua da qualche parte fatemi vedere se ce l'ho su questo canale oppure ce l'ho su un altro canale ancora no allora Marco Costanza investment eccolo qua dove è dove è dove è eccolo allora vi faccio vedere che io in tempi non sospetti vi avevo già detto dov'è non c'è in tempi non sospetti ve l'avevo detto ma adesso non ve lo dico più c'è un video comunque lo troverò e vi metterò il link dove vi spiegavo come mai io avevo deciso di andare esclusivamente su bitcoin a discapito di tutte le altre cripto ora non ricordo più non so come mai il video è scomparso non so che fine abbia fatto comunque se voi andate su Marco Costanza bitcoin vedete tutti i video che io avevo già fatto in passato dove si vedeva come le istituzioni stavano iniziando ad entrare nell'ottica di acquistare bitcoin e poi vi troverò anche il video dove vi dicevo guardate per me le altcoin hanno poco senso è meglio mettere tutto in bitcoin vi faccio vedere dunque un'ultima cosa relativa a questo argomento e poi vi do il mio verdetto andiamo infatti a guardarci la bitcoin dominance bitcoin dominance eccolo qua allora avete capito perché bitcoin è meglio che mette i soldi un po' a casaccio in tutta la shitcoin criptosfera perché guardate bitcoin cosa sta facendo da inizio del 2023 sta continuando a crescere in maniera sempre più importante rispetto a tutto il resto ora avrò un webinar probabilmente sarà in due tre settimane dove vi parlerò molto 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 approfonditamente di come mai per me bitcoin è il nuovo trend non più le cripto ma bitcoin ora non voglio rendere il video troppo lungo quindi la chiudo qua ma sappiate che quando gli investitori istituzionali entreranno nel mercato cripto entreranno su bitcoin su ethereum e pochissimissimi altri progetti in maniera però privata perché ovviamente a livello pubblico gli etf saranno praticamente solo su bitcoin e su ethereum quindi questa cosa vi deve far un po' riflettere detto questo qual è quindi il mio verdetto finale per rispondere in maniera univoca al ragazzo che mi ha chiesto cosa faccio compro vendo sto fermo allora la mia risposta è quella intanto prendiamo il grafico di bitcoin crypto btc eccolo qua la mia risposta è come detto all'inizio dipende dal tuo orizzonte temporale se l'orizzonte temporale è lungo per me non c'è alcun problema continuare il pack anzi un pack funziona proprio perché non non dobbiamo pensare se il mercato ha tirato o no non dobbiamo fare trading non dobbiamo fare timing il pack funziona di per sé basta essere costanzi ci vuole costanza per fare il pack mentre se il tuo orizzonte temporale è di breve periodo allora farei attenzione una cosa però che prima di chiudere mi sento di dire è che ogni tanto si potrebbe anche considerare di fare delle prese di profitto parziali infatti qua non abbiamo mai parlato di vendere i nostri investimenti di chiudere gli investimenti ma anche questa è un'opzione da non sottovalutare infatti se io ho iniziato a comprare bitcoin ad inizio del 2023 e adesso mi trovo in profitto con tanto potrei anche decidere di fare delle parziali prese di profitto ci sono due modi in cui possiamo fare questa cosa primo se abbiamo investito in maniera diciamo su cfd o stiamo facendo trading su strumenti quindi stiamo andando short oppure long in questo caso long chiudiamo le posizioni i nostri bitcoin verranno convertiti in euro in dollari in chi che sia e ci riportiamo a casa se invece state comprando bitcoin spot lo state comprando in modo anonimo non volete passare sui checks non volete passare sugli exchange la cosa migliore da fare in questi casi è fare una sorta di prese di profitto perché poi di quello si tratta come semplicemente potete andare a comprare i vostri le vostre gift card su bit refill il servizio che non sta sponsorizzando questo video ma io lo voglio promuovere perché è probabilmente uno dei migliori servizi al mondo per spendere le cripto questo vi consente di fare una piccola uscita con vostro capitale che ne so avete deciso che siete in guadagno di tanto e quindi volete prendervi una parte di profitti vi comprate ad esempio la guardiamo qua una gift card per fare la spesa da che ne so 500 dollari vabbè voi la prenderete da 500 euro stessa cosa e così state facendo una piccola presa di profitto perché spostate proprio i vostri bitcoin spot li mettete su bit refill vi comprate la gift card ed ecco che avete fatto così una presa di profitto parziale utilizzando effettivamente quei bitcoin per qualcosa di utile quindi questa cosa è un'ottima diciamo un'ottima soluzione se io sono già in profitto di tanto e voglio fare una piccola presa di profitto credetemi che è anche una cosa molto intelligente da fare perché quando il prezzo cresce tanto se io sto investendo nel breve questa è una cosa è una mossa che può effettivamente darvi poi delle performance dei profitti ricordate che finché lasciate i soldi lì dove sono non sono vostri sono del mercato poi se la vostra idea è ma io compro bitcoin perché tra vent'anni spenderò bitcoin questo discorso non vi interessa nemmeno ma se il vostro obiettivo è compro bitcoin perché varrà di più e io potrò permettermi di comprare più cose questa è un'ottima idea io ovviamente vi lascio anche il link qua sotto in descrizione per prendervi 5 dollari in bitcoin e se non mi sbaglio magari mi arrivano pure a me 5 dollari almeno spendo almeno spendo almeno almeno li posso spendere anch'io dai fai vedere allora invita friends and get 5 dollari in bitcoin guardate mi danno pure 5 dollari in bitcoin a me facciamo girare l'economia facciamo girare il mondo se dovete fare delle piccole prese di profitto questo è il metodo migliore dottori spero di essere stato chiaro di aver risposto in modo esaustivo alla domanda facendovi vedere un bel po' di cose interessanti e dandovi un po' più il quadro della situazione fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e soprattutto fatemi sapere cosa state facendo voi e quali sono le vostre idee su bitcoin a presto e quali sono